48 ore di tempo per sciogliere un rebus intricatissimo con il partito e la coalizione usciti vincente dalle elezioni del 4 marzo incapaci sinora di trovare un accordo. E nelle mani della padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, il bandolo della matassa adesso, a lei si è rivolto il capo dello Stato Sergio Mattarella al termine di settimane di infruttuosi colloqui. Il Presidente della Repubblica preme sull'acceleratore, la seconda carica dello Stato diventa il jolly, ore 11, Palazzo del Quirinale, sono i massimi onori ad accogliere la Presidente del Senato, completo blu, pantaloni, elegantissima nel colore prediletto per l'importante appuntamento cui è chiamata. Circa 30 minuti dura il colloquio, il termine del quale il mandato esplorativo viene affidato nelle aggraziate mani dell'Avvocato Padovano di provata fede berlusconiana, con il vincolo di sondare una maggioranza possibile tra centrodestra e 5 stelle. Spirito di servizio, le sue prime parole. Ho ringraziato per la fiducia accordatami il Presidente Mattarella che terrò costantemente aggiornato. Intendo svolgere questo incarico con lo stesso spirito di servizio che ha animato in queste settimane il ruolo di Presidente del Senato. Un'impresa ardua tutta in salita per la nuova lady di ferro della politica italiana che parte subito. Venerdì il Presidente Mattarella l'aspetta per riferire. Dalla sua parte si schiera il Governatore Luca Zaia. È un mandato esplorativo con dei limiti ben definiti. Il Presidente Casellato è una persona ingambissima, la conosco da molto. È in grado di capire se si potrà chiudere questa partita. Immagino che se continueranno ad esserci veti è una partita che non si chiuderà mai. E lo ricorda, ad aspettare, ci sono i cittadini e due milioni e mezzo di veneti che hanno chiesto nel referendum l'autonomia.